Buonasera, buona domenica e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche. Dunque in primo piano andiamo a Rosora, oggi giorno davvero di festa. Presto partiranno infatti i lavori del campanile lesionato dal sisma e dall'incedere del tempo ad avviare la raccolta fondi per il restauro e far tornare il suono delle campane il tenace Don Giuliano. Oggi la consegna di 32 mila euro anche da parte della regione Marche. Vediamo meglio. Sicuramente un giorno di festa, un giorno di celebrazione. Ricuperare il campanile è ricuperare il suono, finalmente. La festa, l'allegrezza, quando nasce un bambino, anche quando muore qualcuno è più triste, ma invita la riflessione. La chiesa di Rosora è piena. La messa della domenica ha il sapore della festa perché le campane di Don Giuliano possono tornare a suonare. Era stato il tenace parroco 95enne a lanciare, anche a livello nazionale, il tamtam per la raccolta fondi per mettere a posto il campanile, lesionato dal terremoto e dall'usura del tempo. Si festeggia l'obiettivo raggiunto, dicono i parrocchiani. È una comunità piccola come la nostra, è facile da dimenticare. Sapere che comunque il patrimonio artistico e culturale viene preso in attenzione e salvaguardato comunque fa sempre molto piacere. È un momento che aspettavamo tutti e che ci ha reso felici e soprattutto vede Don Giuliano che ha realizzato questo suo sogno. In chiesa c'è la lista di chi ha dato il proprio contributo. Ci sono i bimbi della comunione, quelli del catechismo e in cima alla lista c'è proprio Don Giuliano che ha venduto la propria auto. Io ho la macchina, da lì è venuta fuori questa ondata di beneficenza per la nostra chiesa. È un traguardo, sono contento perché siamo riusciti a unire tante persone per questo campanile che appunto io dico non è perché la gente venga in chiesa ma perché abbiamo salvato un patrimonio culturale. E questo è grande per la nostra parrocchia. Alla gara di solidarietà ora si aggiunge anche il contributo della Regione Marche. I lavori dovrebbero partire nelle prossime settimane. Recuperare il patrimonio artistico del nostro paese ma soprattutto per le nostre campagne. Una volta non c'erano gli orologi quindi scandiva il tempo delle campagne. Questo è un recupero importantissimo perché il paese purtroppo si sta spopolando. Però speriamo che le campagne ritornino a suonare come dice Don Giuliano come una volta e la gente ritorni piano piano. Questo ecco lo spero veramente. La Regione Marche vuole continuare a investire sui nostri borghi e sui nostri centri storici. Quello che facciamo oggi qua grazie all'intervento dell'amministrazione comunale, grazie all'impegno di Don Giuliano è fare un ulteriore passo in questa direzione. Perché vogliamo far sì che i nostri figli possano trovare qui opportunità di vita e anche magari fondare qui una famiglia. Grazie mille. E' cosciente anche dopo il volo è stato sbalzato tra l'edificio e il tunnel in un passaggio di mezzo metro. Subito sul posto due pattuglie dei carabinieri e due mezzi dei vigili del fuoco. Interviene anche la FP Cisle Marche, l'ennesimo caso di una sempre più lunga serie di aggressioni fisico-verbali contro i professionisti della sanità marchigiana il cui numero esiguo rende difficile garantire non solo la sicurezza personale ma anche quella dei pazienti che all'improvviso compiono azioni contro i lavoratori e verso la propria incolumità. Sarà pertanto un 8 marzo di mobilitazione per la FP Cisle Marche per ricordare i troppi casi di aggressione contro il personale sanitario ed avviare quindi una serie di azioni in ogni realtà del servizio sanitario regionale a tutela dei lavoratori in gran parte di genere femminile. Dall'ospedale andiamo a parlare di carcere. Due episodi di violenza sono avvenuti all'interno delle carcere di Ascoli Piceno. Un detenuto nigeriano della sezione alta sicurezza si è scagliato contro un altro detenuto. Gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti nella collutazione. Due di loro sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. In serata è stata aggredita un'infermiera in servizio presso il carcere che stava somministrando una terapia ad un detenuto di Ancona che ha danneggiato l'infermeria. Anche la donna è stata medicata all'ospedale Mazzoni da dove è stata dimessa con una prognosi di quattro giorni. Leggermente feriti anche due agenti di polizia penitenziaria che sono intervenuti. Trambusto nel pomeriggio di oggi ad Ancona in piazza Don Minzoni per una valigetta abbandonata sul marciapiede è scattato come da prassi l'allarme bomba al lavoro i vigili del fuoco, la croce gialla, i carabinieri. È stata chiusa l'area per precauzione, l'area di corso a Mendola. Sono intervenuti gli artificieri che hanno aperto la valigia, era vuota e quindi l'allarme è presto rientrato. Ed ora parliamo di maltempo con i recenti fatti in Veneto con l'alluvione a Vicenza, circostanza che riporta l'attenzione sulle vasche di laminazione, anche quelle di Senigallia. Vediamo meglio. La vasca di espansione è un pezzo importantissimo soprattutto nelle situazioni non straordinarie come quelle del 2014 e quella del 2022. Però è uno strumento necessario per contenere le piene, quelli con tempio di ritorno di 200 anni che sicuramente può dare una bella mano. Saranno ultimati entro il 2024 i lavori di realizzazione della vasca di espansione a Bettolelle di Senigallia per la mitigazione del rischio di esondazione del Misa. L'orizzonte temporale lo ha fissato l'assessore alla protezione civile della regione Marche Stefano Guzzi. Un'opera attesa nella vallata del Misa da oltre 50 anni. Il primo progetto è datato 1981, ma che tra rimpalli burocratici, finestre temporali di stallo e finanziamenti pubblici complicati da trovare ancora deve vedere la luce. Eppure l'ultima ondata di maltempo che ha colpito il Veneto ha visto la città di Vicenza salvata da un'alluvione proprio grazie ai bacini di laminazione già costruiti. Ad approfondire la questione per Senigallia e il suo Interland è il capogruppo del PD in consiglio regionale Maurizio Mangialardi, nonché ex sindaco della città della spiaggia di Velluto. Questa è una vicenda che ha 40 anni di storia, è solo che l'assessore Aguzzi è già quattro volte che dà una data di conclusione e ogni volta viene rinviata di un anno. Quindi noi attendiamo fiduciosi, la burocrazia c'era prima, i ricorsi c'erano prima e anche oggi, come vedete, non si risolvono con solo i proclami o con l'effetto annuncio, ancora peggio, dando la responsabilità agli altri. Quelli che c'erano prima, quelli che ci sono adesso, forse fan peggio di quello che è accaduto in passato. Il 2014 prima, il 2022 poi, morti e devastazione dalle ultime due alluvioni e desondazioni del Misa. Un vicino di casa con quale convivere, per il quale nell'ultimo anno e mezzo sono state accelerate opere sugli argini per mitigare il rischio che sia solo un coinquilino pericoloso. La presenza del nostro fiume è un pericolo costante, alcuni lavori sono stati fatti, riteniamo che non siano sufficienti, ma non perché siano da attribuire a ritardi, perché c'è da ripensare completamente il nuovo assetto ideografico di quel territorio, visto anche le tremende alluvioni che sono avvenute in questi dieci anni. Ed ora ancora per quanto riguarda la cronaca grave infortunio sul campo da gioco, questa mattina a Castel di Lama, nell'Ascolano, durante una partita di calcio del campionato di allievi regionali al campo sportivo di Piattoni. Durante uno scontro di gioco, il portiere di soli 14 anni ha incassato una ginocchiata alla testa e il colpo piuttosto forte è stato, tanto che è stata allertata l'eliambulanza per soccorrere in rapidità il ragazzino. E parliamo ancora di sanità con la AST di Fermo. il punto tra assunzioni e i nuovi ospedali in costruzione. Vediamo. Nuove assunzioni di 318 professionisti per un aumento del 21%, mobilità attiva extra-regionale in crescita del 13%, mobilità passiva in calo del 5% e prestazioni specialistiche in aumento del 15%. Sono alcuni dei numeri dell'AST di Fermo nel 2023. crescono anche le prestazioni specialistiche che registrano un più 15%. È un dato molto positivo, sono e sono contento, soprattutto seguendo le indicazioni da parte della regione e del nuovo piano sociosanitario. Abbiamo aumentato la mobilità attiva, soprattutto quella extra-regionale, più del 13%. Questo soprattutto grazie ai nostri professionisti che stanno lavorando in maniera intensa e spostando anche i DRG ad alta complessità. Abbiamo aumentato le assunzioni più del 23% rispetto all'anno scorso, la parte infermieristica più del 28% e la parte della dirigenza medica l'8%. Le risorse della PNRR, destinate all'azienda sanitaria territoriale di Fermo, oltre 9 milioni, saranno investite per realizzare centrali operative territoriali e un dipartimento di prevenzione. È una sanità sempre più vicina ai territori, ma nello stesso tempo con proiezione verso i due nuovi ospedali che stiamo costruendo, quindi darne una sanità più vicina ai territori, più forte e anche attrattiva. Sul fronte investimenti tecnologici, che nel triennio ammontano a 5 milioni, 1 milione e 700 mila per l'acquisto di arredi e tecnologie per l'ospedale di Amandola. Per il nuovo ospedale di Fermo sono già state acquistate due risonanze per oltre 1 milione e mezzo di euro, un mammografo e un ecotomografo per oltre 331 mila euro. Fermo è uno dei centri con i maggiori investimenti, perché stiamo realizzando uno dei più moderni ospedali d'Italia, in cui la regione ha investito risorse finanziarie molto importanti. E poi c'è la ridenominazione e la riqualificazione dell'ospedale di Amandola, che da semplice ospedale di comunità diventa un ospedale di base, con le tre specializzazioni, medicina, chirurgia, ortopedia e un grande pronto soccorso. Quindi un bel segnale per la zona montana, che è stata gravemente colpita dagli eventi sismici. Ed ora andiamo a Camerino con oltre mille studenti a porte aperte Unicam. Sentiamo Roberto Properzi. E questa è la forza di Unicam, secondo me. Piccolo e bello. Non so se questo slogan può essere o è già stato sicuramente utilizzato. Piccolo e bello, così la nuova delegata all'orientamento Unicam, Isolina Marota, al tradizionale appuntamento dedicato alla scelta degli studenti universitari, che ha portato a Camerino oltre mille tra studenti e studentesse da ogni parte d'Italia. Una iniziativa che si ripete ormai da tanti anni, per far conoscere da vicino i corsi di laurea e i loro sbocchi professionali, attraverso un confronto diretto con docenti, tutor e personale dei servizi dell'Ateneo, sottolineata da tutti la grande umanità che si respira ad Unicam, che considera persona ogni singolo studente. Ogni singolo studente può approcciarsi a un docente. Non è strano camminare per strada mentre fai la passeggiata e sentirsi dire «Bongiorno professoressa, posso chiederle qualcosa?» E uno risponde «Certo che mi puoi chiedere qualcosa». E questo non è scontato, perché nei grossi terei in qualche modo la persona diventa un numero e si spersonalizza il tutto. A dare il benvenuto agli studenti presso il centro di ricerca CIP è stato proprio il rettore Graziano Leoni, soddisfatto per la grande affluenza. Significa che l'Università di Camerino si fa notare. C'è attenzione nei confronti della nostra realtà e oggi noi li accogliamo con le porte aperte, ma anche con le braccia aperte. Questi ragazzi vogliono probabilmente capire se questo può essere un percorso che intendono intraprendere e portare avanti per i prossimi anni. È chiaro che l'Università di Camerino oggi ancora è un po' terremotata, però quest'anno sicuramente avremo nuove strutture proprio per i nostri studenti. inaugureremo prestissimo il nostro nuovo centro polo didattico che sicuramente avrà una nuova struttura quasi immediatamente disponibile, ma in breve tempo avremo anche nuovi edifici, una nuova biblioteca scientifica, la sede per il dottorato, l'alta formazione. Insomma, io da rettore posso dire che stiamo realizzando il mio sogno, il sogno di tanti studenti, un posto bello dove studiare. Ed ora raccontiamo la storia del giovane Renato Morandi che conquistò i cieli d'Italia negli anni 20. Ecco la mostra tra mare e cielo all'aeroporto di Falconara. Vediamo. È stato uno dei padri dell'aviazione commerciale in Italia, Renato Morandi, che sorvolò i cieli negli anni 20. Alla sua figura viene dedicata l'esposizione all'aeroporto delle Marche a Falconara dal titolo Tra mare e cielo, non a caso. L'idea della mostra nasce dai pronipoti di Renato, Andrea e Chiara Morandi, dell'omonimo gruppo che si occupa di spedizioni, logistica, trasporti, terminal portuali e servizi turistici al porto di Ancona. La storia di Renato è ancora d'ispirazione. Nel 1925, poco più che ventenne, fondò la società di navigazione aerea transadriatica tra le prime compagnie aeree in campo civile. Il fratello di mio nonno iniziò dal cielo. Noi di solito ci occupiamo di porto, di mare, di navi e quindi tornare alle origini, ma delle origini che riguardano un altro settore, è un'emozione molto forte. Sono immagini veramente emozionanti perché nostro padre ci ha sempre raccontato questa storia fin da quando eravamo piccoli, perché è anche la storia di nostro padre, perché si chiama Renato Morandi. L'ingegner Renato Morandi della transadriatica purtroppo è scomparso prematuramente e da lì i fratelli hanno deciso di chiamare i loro figli proprio Renato. Per cui questo è un tassello della nostra storia che ci portiamo dentro e la sua intelligenza, la sua intraprendenza è stata sempre uno stimolo proprio per il nostro lavoro che cerchiamo di portare avanti ogni giorno. Quello che lui intuì cento anni fa, l'importanza di connettere via aerea, quella volta, il nord Italia sia oltre Alpe ma anche poi verso il sud Italia. Quindi la sua grande intuizione fu quella di organizzare l'aviazione civile per creare una dorsale adriatica unita. Quindi è un tema assolutamente attuale che riguarda poi lo sviluppo infrastrutturale di cui parliamo sempre sia sulla terra che via aerea. Ed ora lo sport, Lega Pro 4 su 4 ma sono tutte sconfitte le marchigiane. Vediamo. Seconda sconfitta consecutiva per l'Ancona che cade rovinosamente al comunale di Arezzo. I biancorossi all'avvio tengono bene il campo ma senza essere quasi mai pericolosi al 27esimo dopo una manovra offensiva dei Dorici. Gli Amaranto recuperano palla velocemente e grazie a un assist di Damiani Gaddini apre il match con una sberla che si colloca all'incrocio di pali. Per la truppa di Colavito non c'è nemmeno il tempo di riorganizzare le idee perché i padroni di casa trovano il punto del raddoppio con Guccione il numero 7 protagonista di una bella azione salta Mondonico e all'altezza del limite dell'area buca Perrucchini. Nella ripresa lo spartito non cambia nemmeno con i cambi proposti da l'Ancona e a tempo ormai scaduto segna pure Sebastiani bravo a ribadire in porta la corta rispinta di Perrucchini dopo un fendente di Pattarello. Un gol del 38enne difensore capitano Marcos Specie. Due minuti oltre il novantesimo consente al Ponte d'Era di tornare da Pesaro con un successo prezioso sotto il profilo del morale perché interrompe una serie di tre sconfitte di fila e anche della classifica. Nei numeri la vittoria sulla Vis è legittima perché il Ponte d'Era ha praticamente avuto sempre il dominio del gioco in maniera chiara nel secondo tempo che la Vis ha comunque chiuso in dieci uomini non rischiando mai davvero. I Granata come detto ad un maggiore possesso di palle in quanto ad occasioni possono mettere sulla bilancia un autopalo colpito da Tonucci nel tentativo di deviare una conclusione di Perretta un sinistro di Ignachiti ben sventato da Neri e un episodio da rigore per un fallo di Zagnoni su Gans a parto netto. Oltre ovviamente all'azione del gol nata da una punizione dalla sinistra di Angori toccata di testa da Calvani e finalizzata dalla spaccata vincente di Specie. Beffa atroce per la fermana che viene riacciuffata dall'Olbia qualche secondo dalla fine quando stava conducendo 2-1. Proprio ad un passo dal triplice fischio è arrivata la doccia gelata con il gol di La Rosa. Al dodicesimo del primo tempo arriva il meritato vantaggio gialloblu con Sorrentino che buca Rinaldi con un colpo di testa su assist dalla destra di Eleuteri. Per l'Olbia il gol subito è stato come uno schiaffo salutare vista l'immediata reazione al diciottesimo Ragazzo su calcio di punizione da posizione centrale supera la barriera beffando Furlanetto. Al trentanovesimo Bianchimano colpisce al volo al termine di un lungo batti e ribatti in aria il pallone termina sull'esterno della rete. La ripresa si apre con un intervento prodigioso di Furlanetto su De Sena ma la fermana entra in campo con più determinazione rispetto alla seconda parte del primo tempo e trova il gol su penalty procurato e trasformato da Giovinco. L'Olbia nel finale preme in cerca del pareggio ed in pieno recupero lo trova con La Rosa. Un gol di Seghetti nel finale regala i tre punti al Perugia che supera 1-0 al Curi una recanatese che, soprattutto nel primo tempo, ha creato diversi pericoli ai biancorossi. Decide il giovane attaccante del Grifo mandato in campo da Formisano nella ripresa a pochi giri di Lancette Seghetti prima costringe Meli al salvataggio poi in sacca. Il Perugia si sveglia soltanto alla fine ma questo basta per conquistare tre punti importantissimi visti tutti gli altri risultati. E questo era il nostro ultimo servizio io per il momento mi fermo qui e vi ricordo che trovate le nostre news sempre aggiornate anche sul sito www.tvmarket.it Grazie per essere stati con noi buona domenica. Grazie per essere stati con noi